Mi si è sconfitta 2-0, 3-0, scusatemi, sul campo dell'Ischia. Un primo tempo dove l'Ischia comunque poteva anche avere un risultato più ampio, anche se il Savoia comunque ha creato qualcosa. Invece nel secondo tempo abbiamo visto un Savoia molto spento. Sì, probabilmente hanno accusato anche della fatica della partita di mercoledì, dove hanno speso parecchio con la Cerrana. Stiamo recuperando un po' di umili, oggi si è fatto male anche Balzano, e strazzolo è uscito anche lui Claudi Cante. Abbiamo un po' di problemi fisici, è stato un buon primo tempo e noi da quello dobbiamo ripartire. Abbiamo avuto anche un paio d'occasioni per poter sbloccare la partita, poi dopo col gullo sul calcio piazzato siamo andati in barca. Sicuramente poi a quel punto l'Ischia ha preso il sopravvento e ha strameritato di vincere questa gara. Una squadra organizzata di grande qualità tecniche e che è votata a lottare fino alla fine per vincere. oggi era una giornata importante per loro. Noi ci abbiamo provato e nel momento in cui sono venute meno le forze, è chiaro che con una corazzata del genere rischi di prendere un'imbarcata. Peccato per il 3-0, l'avrei voluto veramente evitare, perché i ragazzi per l'apprezzazione e per il cuore che hanno messo in campo non meritavano il terzo gol. Ministro, lei è arrivata all'inizio di questa settimana, che situazione ha trovato? È chiaramente una squadra che viene da più esoneri e quindi è in questo momento di difficoltà, è un po' sbandata. Tante nozioni tattiche chiaramente ti portano anche a portare confusione nelle situazioni di gioco. Dobbiamo migliorare molto nella fase di possesso, ripeto, eravamo partiti bene, poi dopo il secondo gol che è arrivato all'inizio del secondo tempo ci siamo spenti e non dovevamo farlo.